Due ore di sciopere un presidio dinanzi alla E-Tech elettronica proclamato dall'RSU, FIMCISL e dalle segreterie FIMCISL, FIOMCGL e Wilma Will. Questo perché dopo la conclusione della fase sindacale non si è arrivati ad oggi a nessun accordo tra parte datoriale e parti sociali sulla procedura di riduzione del personale aperta dall'azienda lo scorso 30 agosto. Nella riunione l'unica proposta emersa è stata quella che l'azienda sarebbe disposta a sottoscrivere con i sindacati un accordo per la risoluzione con un incentivo di poche migliaia di euro, proposta che ovviamente i sindacati non accettano. Loro chiedono di usare le ulteriori settimane di cassa integrazione che sono 33 a disposizione per l'azienda per scongiurare i licenziamenti e avere il tempo di individuare soluzioni. Soluzioni che potrebbero passare anche attraverso una specifica formazione utilizzando il nuovo strumento di politica attiva, garanzia di occupabilità dei lavoratori, il GOL, che può contare su 4,9 miliardi complessivi nel quinquennio 2021-2025. Quindi abbiamo chiesto di sospendere il licenziamento e di attivare la cassa integrazione. Nel frattempo in questi tre mesi noi tramite l'istituzione, la regione e tutti gli strumenti che il governo sta mettendo in atto sulle politiche attive cercare una soluzione non solo per i 10 ma anche per tutto il discorso di questa azienda che secondo noi è un'azienda che va valorizzata avendo proprio delle professionalità specifiche. Non è pensabile che i lavoratori qualificati di un'azienda che è il fiore all'occhiello del settore si possano ritrovare in un processo di licenziamento, soprattutto in un momento di investimenti nel settore spazio. Di nuovo quindi così come è stato ai tempi della vertenza Intex stiamo qui a parlare di investimenti fatti dalla regione Abruzzo sul settore dello spazio e purtroppo non riusciamo a capire quanti posti di lavoro producono e come è possibile che di fronte a investimenti pubblici ci siano ancora aziende del settore in crisi. Su questo c'è un vuoto che è tutto da comprendere se sia dovuto a un'incapacità da parte della politica e delle istituzioni o se ci sono cose che diciamo non riusciamo ancora a comprendere perché sono incomprensibili. I lavoratori dell'azienda sono 42, 10 sono coinvolti in questo processo. Sono coinvolti 42 lavoratori e 10 sono quelli attenzionati ai licenziamenti. Noi chiediamo alle istituzioni di mettere sopra un tavolo tutte le figure che agiscono all'intorno al settore spazio quindi tutte le aziende del territorio che sono attenzionate sullo spazio.